Consumano il pasto per due volte in un locale senza pagare, poi aggrediscono il proprietario e i due camerieri incuranti della presenza tra i clienti di alcuni bambini. E' successo ieri sera in un kebab di Viale dell'Università nei pressi di Porta Rudie, a Lecce. In manette sono finiti tre giovani immigrati, due albanesi e un afgano, mentre un quarto è tuttora ricercato dalla polizia. Agli agenti il proprietario ha raccontato che già sabato scorso gli stranieri si erano allontanati senza saldare il conto e che ieri, per evitare che si potesse ripetere quanto accaduto, aveva chiesto il pagamento della consumazione in anticipo. Non contenti, i quattro, prima di andar via, hanno preteso la restituzione dei soldi. Di fronte al diniego del proprietario, lo hanno prima minacciato, poi lo hanno aggredito tentando di impossessarsi del registratore di cassa, tra il fuggi-fuggi generale degli avventori. A fargli desistere l'intervento di due camerieri, contro i quali i quattro non hanno esitato a lanciare degli sgabelli. Prima di allontanarsi, gli stranieri hanno rotto la vetrina esterna del locale, infrangendo delle bottiglie. La loro fuga, però, è durata davvero poco. I due albanesi e l'afgano sono stati individuati e arrestati dalla polizia in una pizzeria di via Libertini. In seguito alla colluttazione, il proprietario del locale ha riportato un trauma lombare. Solo lievi contusioni per i due camerieri.